Nessun rimborso per i privati che hanno subito danni a causa del downburst lo scorso 13 luglio. Attraverso un'informativa pubblicata sul proprio sito, il Comune di Arezzo informa la cittadinanza e in particolare tutti coloro che abbiano fatto richiesta di risarcimento danni, che la Regione Toscana per il momento non ha previsto finanziamenti o contributi per privati cittadini, ma solo per le aziende. Nell'informativa infatti si può leggere che le misure attivabili, come riportato, riguardano le sole imprese con concessione di garanzia per accedere a finanziamenti bancari finalizzati alla liquidità aziendale o agli investimenti aziendali e concessione di microcredito per le micro, piccole e medie imprese e titolari di partita IVA colpiti da calamità naturali. Al momento quindi non sono previste da parte della Regione Toscana procedure di finanziamento o contributo nei confronti dei privati cittadini. Nell'eventualità che la Regione attivi procedure in tal merito prosegue il Comune, questa amministrazione ne darà opportuno risalto sul sito comunale e mediante gli organi di stampa. Per ulteriori informazioni e chiarimenti, prosegue l'amministrazione, sarà possibile inoltre contattare la Protezione Civile Comunale presso il Servizio Ambiente del Comune di Arezzo.